volevo creare questo disegno questa camma di posizionamento di bloccaggio tamburo porto mandrini di toni multi mandrini serie mtm della mingati questa tavola a 3.8 che è presente nel disegno meccanico volume 3 di manfei prozza e scarato nel falla mi sono comunque accorto che c'era un problema c'era un problema perché al disegno e così via alla fine della creazione mi sono creato che questa quota è sbagliata in realtà di 166 bisogna mettere 185 poi tutto il disegno facendo così torna torna al di là che anche questa quota si poteva anche tralasciare perché comunque era disumibile dal da questa dal 107 più 38 comunque alla fine ho creato il pezzo e questo e mi sembra abbastanza in scala e difatti se vado a vedere se mantengo nel valutare misura mi mantengo questo questo è 147 di raggio e mentre questo deve essere 185 difatti se faccio la differenza deve rimanere 38 la distanza perché è in pratica qui ci deve passare incidente e deve avere un percorso una distanza equivalente in tutti i punti radialmente di 38 invece lì aveva di 19 da qui a qui a meno che il disegno fosse in questo modo qua che i 60 166 perché non avendo il confine qui limite qua era tagliato così allora ci poteva stare 166 ma non credo dunque ecco c'è questa quota 166 che sembra sbagliata e comunque a mio avviso poteva essere anche omessa perché disumibile dal dal disegno ecco ecco ecco